ciao a tutti e benvenuti da ombretta su arte per te benvenuti nel nostro spazio sostenibile in collaborazione con raffaello scuola oggi dedicato alla giornata della terra celebriamo il nostro pianeta e lo facciamo a modo nostro con un riciclo davvero spettacolare dedicato proprio alla terra e ai suoi frutti alla natura e allora spostiamoci sul piano del lavoro e vediamo per la nostra terra cosa nascerà ed ecco l'occorrente per il nostro progetto innanzitutto una scatoletta di tonno naturalmente ben lavata e pulita state sempre attenti a non tagliarvi con i margini che qui risultano sempre un pochettino più taglienti ma adesso li togliamo di mezzo delle vaschette di alluminio riciclate tre almeno e ci occorrerà anche un tappo da barattolo un qualunque tipo di tappo l'importante è che vada all'interno che sia di una misura che vada all'interno della nostra scatoletta pistola per colla caldo e relativa stecca un paio di forbici un bulino che è questo attrezzo che finisce con una pallina che potete tranquillamente sostituire con il tappo di una penna e poi una penna una matita quello che vi capita ci servirà solamente per dare il solco nell'alluminio è una base d'appoggio che sia abbastanza morbido io sto usando un tappetino di feltro e poi io vorrò rendere leggermente dorato il mio manufatto è l'unica vernice non impattante che mi viene in mente è la gomma lacca questa bellissima finitura naturale che trovate in tutti i negozi di belle arti già pronta oppure guardate qui giù in info box vi metto il link del video in cui possiamo prepararla insieme iniziamo subito come prima cosa prendiamo le nostre vaschettine e tagliamole a strisce e la prima vaschetta la tagliamo in orizzontale facciamo quattro striscioline di circa quattro centimetri e con questa che è rimasta tagliamo tre striscioline non buttiamo via nulla prendiamo i margini perché non buttiamo via nulla e tagliamo altre strisce di circa quattro centimetri alla fine del video avremo una serie di striscette in scala d'altezza in generale devono essere larghe quattro quindi la prima altezza quattro e mezzo la seconda altezza cinque e mezzo la se la terza altezza 7 la quarta strisciata deve essere 9 la quinta 11 e mezzo la sesta 14 è la settima quindi quella che darà l'altezza finale al manufatto dovrà essere 17 e mezzo ok adesso entra in campo il nostro tappetino col manico del bulino schiacciamole facendo perdere la piegatura così una volta che tutte le nostre striscette sono senza righe facciamo dei punzoni così dei pallini un po a casaccio quindi palliniamo tutta facciamo dei panni dei pallini su tutta la grandezza facciamo la stessa cosa con tutte le striscette quindi e pratichiamo un taglio ora per farvi vedere la forma che deve avere il taglio ve lo faccio vedere su un pezzo di carta allora tutte le foglie dovranno avere questo andamento 1 e poi via via sempre più grande 2 perché stiamo costruendo un agave quindi bene o male vabbè più larghetto così salendo dovranno essere tutte a punta e andando ad allargare per poi restringere si fa prima a farlo vedere che non a spiegarlo la cosa particolare è che dovrete tagliare tutte e quattro le lamine assieme così per due motivi primo perché così avranno più o meno la stessa forma e secondo perché così il taglio verrà leggermente più sporco e non troppo netto più sporco verrà il taglio più bella sarà la foglia fate tutte le nostre foglioline dobbiamo dipingerle prendiamo la nostra gomma lacca e adesso sporcheremo tutto il piano da lavoro come prima cosa io passerò sul vasetto sulla scatoletta di tonno vedete come prende subito una colorazione mielata dorata che non è proprio oro però lo ricorda e passo su tutte le mie foglioline così una bella spennellata di gomma lacca passo e lascio asciugare fatta la prima mano lasciamo asciugare tutto ben bene quindi ripassiamo una seconda mano di gomma lacca e dopodiché facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte a questo punto abbiamo tutti i pezzi del nostro lavoro è il momento di accendere la pistola per colla a caldo come prima cosa prendiamo i pezzi più piccoli pieghiamoli così su se stessi creando dei leggeri cartuccini se non ce la fate semplicemente con le mani prendete una penna e arrotolate attorno alla penna così uno puntino di colla a caldo senza bruciarvi e mettete sopra anche l'altro guala una volta messo messe le prime due qui dove si crea l'intervallo mettiamo della colla e a coprire questo intervallo agganciamo un'altra foglia e pieghiamola così quindi dall'altra parte dove c'è l'altro intervallo tra due foglie e poggiamo la quarta foglia ok il vortice è partito nell'intervallo tra una foglia e l'altra mettete la foglia più alta quindi cominciamo con quelle più grandette adagiamo e lasciamo premuto state attenti a non bruciarvi ricordatevi che l'alluminio è un conduttore quindi si riscalderà qui dove lo poggerete sulla colla a quindi non metteteci proprio le mani di sopra e poi esattamente dall'altra parte qui vedete a croce adesso si è formato questo vuoto qui e allora mettiamo qui la nostra fogliolina girate dall'altra parte e mettiamo qui l'ultima proseguite montando a croce tutte le foglie quindi dove vedete che c'è un vuoto per esempio adesso comincerò da qui perché c'è questo vuoto a incastrare le foglie leggermente più grandi inizia l'ultimo giro e voilà anche l'ultima foglia è stata messa e prendiamo il tappino e cominciamo a mettere all'interno del tappo della colla attenti perché questo coso scotta da morire quindi lasciatelo poggiato sul tavolo senza toccarlo e senza toccare il il tappo ponete al centro la pianta una volta freddatosi il nostro tappo prendiamo la lattina di tonno mettiamo un po di colla anche all'interno di essa e mettiamo dentro la nostra piantina e facciamo ben raffreddare il tutto solo quando la vostra piantina si sarà ben raffreddata io lo faccio adesso perché voglio farvi vedere l'effetto finale cominciate a piegare le foglie all'infuori allargatele dapprima in modo da dare a tutte l'andamento curvo per poi restringerle successivamente guardate allarghiamo 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 e la nostra pianta grassa tutta fatta con le vaschette di alluminio ditemi se non è bellissima è pronta per adornare angoli speciali della nostra casa simulando con creatività la natura nel rispetto dell'ambiente vi lascio alle foto dove potrete meglio apprezzarla perché così non si capisce bene e noi ci vediamo dopo ciao bella la nostra pianta di aloe vera bene abbelliamo le nostre case anche di queste piantine per non rimettere nel circolo dell'immondizia tanti di quei materiali che possiamo trasformare in qualcosa di livello etico e sostenibile e in più avere una pianta finta di design a casa ci permette di sprecare anche meno acqua per annaffiare e allora se questo video vi è piaciuto pollice in su condivisione guardate giù in infobox per trovare tutti i link di raffaello scuola all'interno dei quali poter sbirciare numerosi contenuti creativi ed educativi seguitemi sempre su tutti i miei social youtube facebook instagram e tiktok e naturalmente noi ci troviamo sempre qua per un prossimo video creativo da ombretta da arte per te e dallo spazio sostenibile tutto ci vediamo la prossima volta ciao